Tre minuti di Design con Design Italy, sono con Roberto Beltrami, il più giovane mastro soffiatore d'Italia e presumo anche del mondo. Parliamo di vetro, parliamo di murano e raccontiamo la storia di questo giovanissimo soffiatore che è veramente molto bello e particolare. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao, ciao, grazie per avermi avuto. Sono qua. Raccontami la tua storia perché io so che tu sei un fisico, studiavi fisica e a un certo punto ti ero innamorato del vetro. Esatto, sì, io sono di origini bresciane, quando avevo 16 anni mi sono trasferito in America per finire le scuole superiori e poi ho iniziato a studiare fisica alla Boston University che è sempre stata una mia grande passione, la scienza e insomma come funziona il mondo intorno a me. Sono sempre stato comunque appassionato di lavoro manuale e quindi ho visto una mostra alla fine del secondo anno, una mostra di vetri al Museo di Arte di Boston di Dale Ciculi e dopo aver visto questa mostra mi sono innamorato del vetro e mi sono trasferito a Murano, ho lasciato gli studi e ho iniziato a lavorare a bottega in diverse vetrerie con dei grandi maestri come Pino Signoretto e tre anni fa ho aperto questa azienda, Wade Murano Glass, una start-up sull'isola di Murano dove cerchiamo di unire l'innovazione del mondo moderno digitale con la tradizione millenaria del vetro. Ma è bellissimo, senti quindi raccontaci come avviene il tuo lavoro, quali sono le tue ispirazioni, come lavori, perché tu poi lo fai direttamente proprio tu perché ho visto le fotografie che faccio a vedere in sovraimpressione, sei proprio tu che fai tutto il processo di produzione. Sì esatto, lavorare il vetro è un lavoro molto pesante però che dà anche molte soddisfazioni, sei sempre a contatto con il fuoco, con il vetro incandescente però è un lavoro unico che dà delle soddisfazioni incredibili e insomma il vetro dà un'infinita possibilità di soluzioni e di creazioni l'unico limite ovviamente è l'abilità del soffiatore e della fantasia ovviamente. Quindi praticamente tu travi ispirazione e come? Come inizia il tuo processo produttivo? Disegni, te lo immagini, poi inizi a soffiare? Dipende, quando lavoriamo con designer o artisti loro portano un progetto e io cerco di aiutarli a sviluppare la loro visione mentre certe volte lavoriamo su una mia idea e quindi partendo da, diciamo che il processo creativo spesso è legato al mio background scientifico quindi la scienza mi dà molta ispirazione per la lavorazione del vetro e questo mi porta a creare delle cose particolari bene, io ti faccio i miei più grandi auguri e soprattutto i complimenti per il tuo coraggio e per l'intraprendenza che hai avuto e soprattutto per coltivare un mestiere così nobile come l'arte del vetro e dico a tutti come al solito comprate meglio, comprate italiano e comprate su Design Italy Ciao Roberto, grazie! Ciao, grazie! Ciao! 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 Grazie a tutti.